Questa mattina a Campobasso la presentazione del movimento Molise al Centro. Un movimento, dice il portavoce Michele Di Bartolomeo, aperto al mondo civico per far vedere che c'è una presenza importante, gente nuova che porti avanti i programmi e non i personalismi politici. È il biglietto da visita del movimento Molise al Centro. Sono figlio della politica, ho respirato politica da quando ero ragazzo. Ho fatto centinaia di decine di campagne elettorali, abbiamo incontrato negli anni decine di persone, amministratori. Adesso la gente è distratta, non partecipa più alla vita politica. Noi vogliamo sottrarre voti alle altre forze politiche, noi vogliamo essere attrattivi. Non vogliamo togliere voti al PD o a Forza Italia o a Fratelli. Noi vogliamo attrarre quella parte di popolazione che si è staccata dalla politica e che non va più a votare. Abbiamo assistito alle ultime elezioni. Non possiamo immaginare una regione già piccola come la nostra, dove non vota meno del 40% delle persone. Le persone devono riprendere in mano un po' il loro futuro ed è quello che vogliamo fare noi con questo movimento. Abbiamo intorno a noi imprenditori, abbiamo professionisti, abbiamo professori, impiegati. Speriamo di riuscire a concludere quella lista. Comunque noi siamo aperti a tutti, siamo aperti al dialogo, purché si ragioni almeno su questi tre punti programmatici. Per il momento il partito si dichiara disponibile ad ascoltare, non identificandosi né a destra né a sinistra. Io credo che siano importanti i programmi. Trovare unità sui programmi è la cosa fondamentale. Poi sicuramente il coach è importante, però avere lo schema di gioco, sapere che partita vogliamo giocare, secondo noi è preminente rispetto al fatto del candidato. Poi chiaramente i personalismi sono legittimi di ciascuno, di quelli che si sono già proposti. Noi ragioniamo, quando riusciremo a trovare unità sul programma troveremo sicuramente o a destra o a sinistra unità sul candidato presidente.